Chi avrà la patata tra le mani dovrà pagare meglio, ok? Avete capito? Un attimo. Un attimo che proviamo con il padrone. Allora, bimbi, a questa volta lo spiego come si apre... Come si apre? Come si apre, bimbi? A questa volta si apre così. Unire, tutti insieme. Unire, bimbi, come lo sapete voi spiego? Fa le mani, a casa andiamo con i piedi, me lo sovoro, si fa. A casa non lo dovete fare, te mamma l'ha avvisato. Con i piedi, giudiamo tutti insieme. A casa, su, a figli, mi ha provato tutti insieme, abbiamo. Unire, in piano con il calcio. Com'è scelta la patata? Tre, 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 tre. La patata non si gioca, lo fate passando a te lo cia? No. Ora si facca? No. Un veloce e lente. Fa un po' lente. La passione è la velocità? Sì, ma... Siete delle provo? Lente. Le provo, sì, le provo, è il faglio. Le provo, sì, le provo al fino. Andiamo con i piedi. L'abbia parti, si go? Sì! L'abbia parti, dai, sei? Dai! No, sei, tu ti ci sono! Vita, 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 vita. Basta più veloce Basta, 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 basta Volevo, vedere se vi passate, volta E volete, 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 volete Volete, volete, volete Volete, volete, volete No 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11. Grazie a tutti. La panna, la panna va, e vada qui, e vada lì. La panna, la panna va, e vada qui, e vada qui, e vada qui, e vada qui. Ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma sicuramente non è vero, ok? Ok? Mettanto delle fattuli chiamate un uomo pazziccione? Sì! Puntate posto e rafforzate un uomo pazziccione! E' vero, no! Ma non è vero! Quando mi stanno a prendere il giallo, non mi chiamiamo un uomo pazziccione! Il mondo molto alto! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.